Buongiorno ragazzi, dopo che nell'ultimo video ci hanno cancellato il volo per la Sardegna ho detto no. Ci voglio assolutamente andare, per cui benvenuti nella mia prima volta in Sardegna, per l'esattezza ad Olbia. Quest'oggi sono qui per voi per rispondere alla domanda che si pongono tutti da quando nascono. Si può andare in Sardegna senza macchina? E così facendo partiamo dall'aeroporto di Venezia in direzione Olbia. Di solito si vuole in Sardegna in traghetto perché la macchina è molto più comoda in un'isola, ma noleggiare un'auto in Italia è veramente veramente costoso. Ragazzi siamo per la prima volta in Sardegna. Ragazzi oggi viaggio con Gabri, finalmente era da Catania che non andavamo via insieme e oggi andiamo per la prima volta entrambi in Sardegna. Siamo ad Olbia. Per arrivare in centro c'è un semplice autobus da prendere. L'aeroporto è anche molto vicino alla città. Ragazzi siamo finalmente arrivati ad Olbia. Abbiamo l'alloggio abbastanza in centro. Adesso l'abbiamo in centro. Fa caldissimo. Super picchiare a te. Per questa nostra vacanza in Sardegna abbiamo soggiornato in un alloggio davvero bellissimo, un appartamento in pieno centro, preso all'ultimo a un centinaio di euro. Abbiamo speso un po' ma era proprio carino. Ragazzi siamo arrivati in alloggio, è davvero bellissimo. Abbiamo speso un pochino, penso sia uno degli alloggi in cui ho speso di più. Però è molto bello. Abbiamo prodotto tipo il giorno prima, quindi è rimasto solo questo e questo non aveva nessuna recensione, quindi siamo buttati un po' a buff. E c'è una vista bellissima sulla città, molto prato, molto carino. Non è che proviamo un po' l'ingresso perché comunque è un edificio in ristrutturazione. Però è davvero davvero bello. Siamo usciti subito per felicità di gas. Andavamo a casa a guardare i team title. Ragazzi adesso siamo venuti a mangiare in questo fast food all 10, abbiamo preso un panino a testa, lui con la carne di cavallo che è tipico di qua e io con i polipi. Ok, è davvero davvero buono, super buono il panino, poi se uno è amante del polpo sicuramente lo troverà soddisfacente. Solitamente ci metto i mesi a decidere dove andare a mangiare in un posto, per mangiare è tipico, adobe ho trovato subito. Mi hanno attirato subito i polpi, davvero squisito. Adesso siamo venuti a mangiare, il pesce è fritto. Un'altra roba da mangiare, ho preso un mangiatutto, si chiamava, sono dei pesci con gli occhioni che mi dicono non mangiare, ma ormai sono fritti. Siccome fa caldo prendiamo un po' di fresco. Il centro della città si presenta già al super movimentato e pieno di cose da fare, pieno di gente e pieno di locali. Raga la serata a Olvia è finita qui, ci vediamo domani e andiamo in spiaggia. Raga buongiorno, prima giornata in quel diloglio, oggi andiamo a vedere un po' di spiaggia, andiamo a Porto Vestana, prendiamo l'autobus, ma prima non ci facciamo anche una colazione. Benvenuti a questa nuova giornata. Raga adesso prendiamo l'autobus, andiamo a Porto Vestana, dove sono aspetti bellissimi. Abbiamo avuto la fortuna che, siccome ho i buoni posto, abbiamo fatto la spesa, il pranzo, la crema solare a un euro. Porto Vestana è una delle spiagge più belle vicino ad Olvia. È abbastanza semplice arrivare, ma è tutto un po' male collegato. Raga siamo a Porto Vestana, abbiamo aperto l'autobus, ci sono un'oretta e adesso andiamo nella spiaggia. La spiaggia di Porto Vestana è davvero bellissima, una delle migliori di Olvia, a detta di molti. Purtroppo da Olvia, se avete poco tempo e non avete la macchina, non si può arrivare ovunque, ma Porto Vestana è davvero stupenda. Il mare qui è davvero cristallino, si possono vedere un sacco di pesci con lo snorkeling. Quindi abbiamo passato un paio di ore sott'acqua e giocando a palla, con la vera palla dei Cagliari, originale proprio. Io non sono un grandissimo amante del mare, mi annoia abbastanza facilmente, ma lo snorkeling è davvero super rilassante, lo farei per ore. È una sorta di meditazione sott'acqua secondo me. E montando il video in questo momento vorrei essere lì. Raga abbiamo appena fatto il bagno qui a Porto Vestana, è veramente bellissima. Abbiamo anche fatto un po' di snorkele, abbiamo guardato i pesciolini. Adesso vediamo se riusciamo a prendere anche una canoa o qualcosa come questo. Raga ho preso 3 kg di formaggio sard, che non so come lo porterò a casa, ma in qualche modo ce la farò. Il mio più grande problema è che amo un parlare con la gente del posto, quindi si sono avvicinati di Virisard a parlare con me e mi hanno proposto di acquistare del formaggio. E come potevo dire di no? Grande come gabbè. A Porto Vestana avrei voluto noleggiare un kayak, un sup o qualcosa del genere, ma purtroppo non ho trovato nessuno che me lo desse. Ma la giornata nella spiaggia è stata stupenda. Un mare che non trovi in molte parti d'Italia. E lasciamo la bellissima spiaggia. È stata in acqua troppo tantissimo. Alla fine, se non si hanno pretese di vedere i miei posti, anche l'autobus senza macchina è una soluzione valida. Ci può comunque andare in spiaggia bellissima e spendendo anche poco. Il Gabby si è preso il suo cappello davvero fratto. E la palla. In qualche modo tu la vuoi. E gli orecchini. Raga, siamo colpo dei profili, perché ho un po' sporcina attaccata in pasta. Quattro kg di formaggio nello zaino. Troppo formaggio. Porca miseria. Raga, finalmente siamo usciti dall'alloggio. Siamo lavati, siamo fatti tutti belli e sono emozionale. Sebbene Olbia non sia una città molto grande, ha veramente tantissimo da offrire. Nel lungomare troviamo mercatini e tantissimi locali in cui mangiare e fare aperitivo. Raga, adesso aperitivo. Un barbino tipico nel lungomare di Olbia. E si sta a prendere di... E' proprio un posto rilassante. Certo. Raga, adesso ho tutto consiglio del tipo dell'host. Siamo venuti qua. A Tom e Fisch. E' molto buono. Cioè, non so se è morto qua. E abbiamo posto un panino che adesso vi faccio vedere. Praticamente qui ad Olbia, dove abbiamo preso i 4 kg di formaggio, li ha presso anche Andrea Galeazzi. E' questo che mi ha convinto a prenderlo. Quindi Andrea Galeazzi è colpa tua. Sto mangiando quel panino e quel qualico da tutta la vita, praticamente. Ma buono, è una cosa tipica di qua. Quindi ci sta. Lo mangio molto molto bene. Poi sono un super fan del polco. Quindi... Tocco. Passeggiando per il centro, tra festeggiati, locali e tantissime luci, ci sta veramente bene. Gabby si è preso un fresco. Che aveva caldo, allora era più fresco. Ragazzi, adesso ho preso le coste gratinanti. Caso, non è messa. Raga, per oggi si siamo uccisi abbastanza. Ci vediamo dopo di partita con un nuovo video. Cioè, una nuova giornata. Raga, buongiorno. L'ultima giornata, in quello di Olbia. Oggi in realtà non sappiamo ancora dove andare. Avevo visto un po' di itinerari diversi e adesso decidiamo un po' da farci. Oggi è una splendida giornata. Il cielo azzurro, il cielo, il sole. E siamo pronti. Il giorno seguente sarei voluto andare alla Maddalena, nel nord della Sardegna. Una delle spiagge migliori dell'isola. Ma in autobus ci inventavamo davvero tantissimo tempo. Purtroppo questa era la scomodità di non avere la macchina. Raga, adesso abbiamo preso l'autobus. Siamo nel quartiere di Pitulongu. Di Pitulongu. E qui praticamente sono le spiagge cittadine di Olbia. Dove vanno tutti i veri olbiesi le spiagge. La spiaggia di Pitulongu è la spiaggia cittadina. Qui avete a disposizione nove spiagge. Una di fianco all'altra. Si arriva con il bus numero 4. Che non trovate su Google. E' una spiaggia davvero davvero bella. Ottima per lo snorkeling, le invenzioni e il surf. Ormai possiamo essere considerati dei maestri di snorkeling. Quindi passiamo ancora tutta la giornata a guardare i pesci sott'acqua. Un'esperienza indescrivibile. Un'esperienza indescrivibile. Ormai siamo, se vi abituate allo snorkeling, siamo degli esperti. E' una sorpresa per i pesci. Sicuramente è la cosa più bella da fare al mare. Devo dire che gli amici sardi non hanno nulla a cui invidiare al mare della Grecia. E' davvero uno spettacolo. Da stare lì anche solo a fissare questo azzurro meraviglioso che cambia in continuazione. Raga ho appena preso un cappello bellissimo. Raga, lasciamo la spiaggia e torniamo ad Olbi. E ci vediamo per l'ultima volta alla città. Non peccato, non è una vera macchina, veramente. Perché sono tantissimi spiagge da vedere. Qua in giro ci sarebbe anche stato il posto dove avranno tutti i vips. Ma non mi ritardo. Però è un po' distante. In autobus vogliono due ore, anche se in macchina ce ne vogliono 25 minuti. Quindi ragazzi, in questo momento vi posso rispondere. E' possibile andare in Sardegna senza macchina? Dipende dai vostri gusti. Sicuramente farete una vacanza bellissima. Ma vi perdete anche tanto dell'isola. La Sardegna ha davvero tanto da offrire. Probabilmente abbiamo visto l'1% neanche. Ma di certo è stata un'esperienza incredibile. Io ho la fortuna di poter viaggiare ogni settimana. Quindi sicuramente ritornerò. Ma questa volta con la macchina. Con l'intento di vedermi un po' tutti i posti nascosti della stupenda isola. Ora che abbiamo fatto appi e adesso andiamo a accennare. E' ancora tutto grosso. Ma perché le gambe rosse? Raga, siamo ritornati nel nostro posto di fiducia. E siamo il numero 1. Dove siamo? Sempre qui. Alla spianata. Sì. O il piano. Alla fine, per tutta la vacanza, abbiamo mangiato sempre street food. Davvero buono e davvero molto molto economico. Ragazzi, sono le 5 e mezza e stiamo andando a prendere l'aereo. Ho attaccato di tutto. Ho i miei 4 kg di formaggio da una parte. La maschera e la storia dall'altra. Se mi fanno passare tutto... Purtroppo, spesso, i voli più economici partono la mattina presto. Quindi avevamo l'aereo. Allora, siamo giunti. Nero po' con i miei 4 kg di formaggio. Vediamo se arriveranno di sinistra. La fila di cappello non è arrivata da nessuna parte. L'ho dimenticato lì. È durato... 5 minuti. La fila di cappello non è arrivata da nessuna parte.